O, 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 se ci sono storia, una vita insieme a te, in domenica a te, non riesco a stare solo senza te. Bella raga, dal vostro grande capitano Napoli e sempre Forza Napoli. Benvenuti in questo nuovo video, oggi parlerò di calcio a mercato, di un giocatore che anche lui è da molti mesi che è in trattativa in orbita Napoli. Parlo del fruttissimo centravanti napoletano della Lazio Ciri Mobile. La sua valutazione è di circa 50-55 milioni di euro. Immobile si è già capito che vorrebbe cambiare maia perché dopo tre stagioni alla Lazio vorrebbe fare sotto i punti di vista un miglioramento. Al Napoli lo farebbe di sicuro perché ad esempio sia come ingaggio perché la Lazio prende 2 milioni e 2 milioni e 3, al Napoli gli darebbero 4 milioni e mezzo e 5 quindi il doppio. Nel Napoli avrebbe l'occasione di lottare per lo scudetto con un grande allenatore come Carlo Ancelotti e di giocare la Champions League e questo nella Lazio non lo farebbe quindi avrebbe un miglioramento economico e un miglioramento come carriera sportiva. Lottito chiede circa 50-55 milioni di euro. Bisognerà vedere se De Laurentiis vorrà spendere quei soldi per un giocatore che il mese scorso ha compiuto 29 anni. Ricordo che il Napoli molto probabilmente quest'estate venderà in Cina nella stessa squadra di Amsk e probabilmente Mertes per 32 milioni di euro. Insieme a questo video ci sarà la solita videoclip con le caratteristiche tecnico-tattiche e tutta la carriera anno e anno del calciatore Ciri Mobili. Speriamo che il Napoli prenda questo giocatore che a me piace tantissimo, completerebbe l'attacco come prima punta insieme con i mili che comunque i mobili può giocare anche da seconda punta anche insieme con i mili che così da alternarsi tra campionato e Champions League. Speriamo che il Napoli prenda questo fortissimo giocatore. Ditemi nei commenti se sareste contenti che il Napoli comprasse Ciri Mobili. Vi auguro un buon proseguimento di giornata dal vostro grande Capitano Napoli. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale. Seguitemi sulla pagina Facebook Capitano Napoli Esperto di Calcio, pagina Twitter Capitano Napoli Esperto di Calcio e semplicemente su Instagram Capitano Napoli. Mettete un bel like a questo video. Sempre e comunque Forza Napoli. Ciao. Ciro Immobile, nato a Torre Annunziata il 20 febbraio 1990, è un calciatore della Lazio. Caratteristiche tecniche. Centravanti, capaci di spaziare su tutto il fronte d'attacco. I suoi principali punti di forza sono senso del gol, fisico possente, tecnica di base, dribbling nello stretto e tiro di prima intenzione. Da ogni posizione con entrambi i pinni. Nella carriera ha iniziato nella Juventus totalizzando solo 5 presenze. Nel 2010 e 2011 Siena, 6 partite e 2 gol. Da gennaio a giugno dell'11, 2011 Grosseto, 16 partite e 1 gol. 2011 e 2012 una grande stagione col Pescari in Serie B con Zema, 37 partite e 28 gol. 2012 e 2013 Genoa, 33 partite e 5 gol. 2013 e 2014 nel Torino, 33 partite e 22 gol più 1 in Coppa Italia. 2014 e 2015 va in Bundesliga, il Borussia di Dortmund. In 34 partite totali tra campionato, Coppa di Germania e Champions League, 10 gol. Nella stagione 2015-2016 va il Sivignia in Spagna e in totale fa 15 partite e 4 gol. Nel gennaio del 2016 va a Torino al Torino, in 14 partite fa 5 gol. Dal 2016-2017 Torino va alla Lazio. Nella sua prima stagione, nel 2016-2017, 26 gol stagionali, 23 in Serie A e 3 in Coppa Italia. La sua migliore stagione della sua carriera nel 2017-2018 che fa 41 gol stagionali, dei quali 29 in Serie A, 2 in Coppa Italia, 8 in Europa League e 2 in Supercoppa Italia in finale contro la Juventus. In questa stagione, nel 2018-2019, ha fatto già 17 gol stagionali, 13 in Serie A, 2 in Coppa Italia, 1 in Europa League. È stato nella sua carriera due volte capocannoniere della Serie A, nel 2013-2014 col Torino con 22 gol e nella sua giugno 2017-2018 con la Lazio con 29 gol. In nazionale ha totalizzato 37 partite e 7 gol.